Siamo a Cuneo al Pride, Ministro Fabiano Gadone, Mondovic, in sfilata. Ministro, il significato di oggi e l'importanza di oggi? Intanto è il primo Pride che si fa a Cuneo nella storia, è importante perché è bello vedere che il Pride non si faccia più solo nelle grandi città, ma che riesca anche a colorare quelle che sono le province, e una provincia importante come quella di Cuneo. Quindi è un segnale che spero possa non far sentire più discriminati i soli tanti ragazzi e ragazze che sono qui oggi con noi, e anche magari chi non se ne è sentita di essere qui con noi. Di che cosa ci sarebbe bisogno oggi effettivamente? Di non aver paura di estendere i diritti ad altri, perché il fatto di estenderli non priva chi ha già i diritti dei propri diritti. Significa semplicemente allargarli agli altri e avere un mondo più giusto.